Sono con il collega Alberto Cuomo, Unibet.it, amici come al solito siamo pronti a pronosticare quello che succederà in Turchia, Istanbul, scottati dalla partita con la Juve, purtroppo sì, Napoli deve reagire, deve ricominciare, ci può riuscire con una partita importante, non sarà facile perché a Istanbul sarà una bolgia, vero Alberto? Assolutamente sì, lì è una partita incandescente, è un ambiente veramente infuocato, il Napoli dovrà scendere veramente molto cattivo e non deve avere paura dell'ambiente ostile e di una squadra che ci aggredirà dal primo minuto, anche perché vorranno fare leva sul fattore campo e quindi per qualsiasi squadra andare in Turchia è sempre un fardello abbastanza complicato. Giocati una cosiddetta bolletta come noi la chiamiamo qui dalle nostre parti, una singola? Su Napoli Besiktas? Napoli Besiktas io dico gol X. Gol X, quindi non vinciamo? Non vinciamo ma usciremo con un Parigio che può far bene. Uno a uno mi piace, l'uno a uno mi piace. Quindi gol significa che segnano tutto il quale. Gol e che tutti entrambi fanno gol e che finisce in Parità, X-Gol. E allora X-Gol promette il nostro amico e collega Alberto Cuomo, io mi vorrei giocare anche l'uno però. Faccio una premessa però. Faccio una premessa. Io non sono fortunato per me. No vabbè ma non devi essere fortunato, devi essere bravo come sei. E allora io invece ci provo con la giocata dell'uno, possano segnare anche tutte e due le squadre, l'abbiamo visto all'andata addirittura con nove. Uno che vince Besiktas. No uno che vince, scusa hai ragione, due del Napoli. Bravo, bravo, due del Napoli. Grazie Alberto che mi hai subito ripreso. Due del Napoli, due del Napoli. Oppure una doppia chance, X2 in questo caso, con gol. Con gol tutte e due le squadre e anche tanti gol perché potrebbero succedere anche questo. Vediamo se giocherà Gabbiadini al primo minuto ma sembra di così, sembra così. Ci auguriamo che però il Napoli faccia il risultato perché deve continuare in Champions. Amici di Unibet.it puoi scommetterci, lo sapete. Forza Napoli e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.